vedete cosa cosa vi hanno portato grazie a te leggo io messaggio messaggio e tu sarà che c'hai? vediamo te lo leggo io messaggio messaggio oppure Sara? anche lei messaggio da babbo natale messaggio da babbo natale Sonia Sara cari bambini vi do il benvenuto nella mia casa prima però permettetevi di presentarvi i miei cagnolini dall'italia qui ho persino la vostra foto so anche che volete tanto bene ai vostri genitori tantissimo sicuramente vi incuriosiscono i regali vero? devo solo controllare se siete nel registro dei bambini buoni ai 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 Sara sei nella lista dei bambini buoni? oh questa dovrebbe essere la vostra richiesta vediamo quello che i miei elfi stanno preparando per voi oh oh che sorpresa se vi trovate nel mio registro invierò immediatamente la vostra richiesta alla nostra fabbrica e vogliamo i cani noi qui sono conservati i registri che descrivono ogni bambino ognuno ha il suo registro compaiono continuamente nuovi registri perché tutti i giorni nascono nuovi bambini questo registro ad esempio guarda un po' è ancora vuoto e si oh oi oi qualcuno deve essere stato molto cattivello prima di inviare un regalo a un bambino devo controllare se è stato buono dei bambini buoni quest'immagine lo mostrerà subito vediamo questo no questo no questo no anche questo no oh congratulazioni ho 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 sono principessa sono principessa ah sei la brillista dei bambini buoni siete fiero di voi ma ricordatevi che dovete fare del vostro meglio per tutto l'anno e ricordate la cosa più importante realizzate i vostri sogni e adesso andiamo eh dove andiamo? vi mostro una cosa cosa vi mostra? facciamo i giocattoli per i bambini wow solo poche persone possono vedere questo luogo guardate con attenzione oh che delizia ma non ditelo ai miei elfi perché altrimenti mi faranno fare i piegamenti e mi pieteranno di mangiare la torta di mele dopo pranzo ah ah stanno guardando ah ah loro stanno a guarda babbo natale ti hanno sgambato vediamo dove devo lasciare i regali quest'anno vediamo qua oh abitate qui vero? sicuramente arriverò a casa vostra con la mia slitta un momento c'è ancora una persona che vi ricorda sempre secondo voi di chi si tratta? papà e mamma è stata una persona così dolce e straordinaria oh che tempo eccezionale perfetto per volare ah ah piccole feste senza di loro non ce la farei i miei cari elfi è l'ora di consegnare i regali a presto oh 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 Rudolf, rischiamo di perdere la licenza di volo per eccesso di velocità! Oh oh oh! Grazie!